buongiorno a tutti diamo inizio al derby 2024 su questi splendidi terreni di altamura con i colleghi borselli e toniato come sapete il derby inglese è una prova giovani per cani fino ai 30 mesi la nota è quella della grande cerca la selvaggina sono le star da mattina le condizioni sembrano buone speriamo di vedere dei buoni cani e di classificarne il più possibile grazie a 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 Il nostro corso gratuito Grazie a tutti. 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 e a tutti. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ...... 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 ... ...... ...... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... 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